Bene ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Stefano al vostro webmate e in un mondo sempre più amazon centrico sta diventando veramente difficile sia per venditori sia per compratori capire qual è il prodotto migliore, il prodotto giusto sia da vendere che da comprare sta diventando ripeto veramente una giungla e proprio adesso sono tornato da una zona qui di LA dove c'erano due grossissime catene due negozi giganti che hanno chiuso praticamente nel giro di 2-3 mesi questo è un altro sintomo del fatto che ormai tutti comprano veramente online tutto il mercato globale, specialmente quello americano, sta diventando amazon centrico io stesso tantissime volte ho specificato e ho parlato di quanto io stesso sia dentro il sistema amazon che qui negli Stati Uniti è ancora più forte che in Italia utilizzo carte di credito amazon prime che vi danno il 5% di cashback ordino la spesa a casa con amazon fresh compro la maggior parte delle cose con il mio abbonamento prime e col fatto che ho la carta di credito sono in questo ecosistema e mi invoglia anche a spendere sempre di più perché so che ho il cashback che mi arriva comprando su amazon con questa carta di credito oltre ai vari servizi che ora sono disponibili con amazon e possono essere utilizzati da chi è membro prime ma l'argomento di questo video è relativo più che altro ad amazon fba cioè il servizio di spedizione offerto da amazon se una persona vuole vendere un prodotto online nello specifico ci soffermeremo sui tool più conosciuti oggi per fare una ricerca perché come dicevo prima la cosa importante oggi che fa veramente la differenza quando stiamo vendendo un prodotto è che prodotto vendiamo e sapere esattamente qual è il prodotto migliore che siamo quasi sicuri almeno anche se è praticamente impossibile saperlo con certezza che avrà successo e qualcuno lo comprerà quindi oggi più che mai è indispensabile avere i tool di analisi per capire appunto quali sono i prodotti che vendono, quelli che non vendono, che volumi hanno e sapere attraverso dei ranking dei tool come questi qual è il prodotto migliore su cui investire quindi nel caso specifico sicuramente avrete già sentito parlare di Jungle Scout che è il più conosciuto in assoluto con cui è possibile appunto fare una ricerca dei prodotti per volume, per fatturato e calcolare automaticamente i margini e poi cercare eventualmente dei prodotti simili da poter vendere se c'è un margine ovviamente di penetrazione per una nicchia di mercato ultimamente però ho scoperto un altro tool che si chiama Amazon Scout è praticamente lo stesso, è leggermente diversa l'interfaccia però la cosa buona è che dà uno score sul punteggio lo score praticamente ti indica se quel prodotto vale la pena provare a venderlo oppure c'è già una competizione troppo alta gli indici su cui tira quel punteggio è basato sia sui volumi di vendita sul fatturato, sui margini, sulla competizione ma anche sulle recensioni che come sapete su Amazon sono la cosa fondamentale oggi vendere su Amazon è già abbastanza complesso perché ci sono tantissimi reseller e tantissime persone che provano a vendere quindi c'è una competizione su qualsiasi tipo di prodotto quasi quindi è dispensabile sapere come funzionano riguardo i prezzi la cosa buona è che il 197 costa Jungle Scout con l'account premium mentre invece con Amazon Scout avete i primi 10 prodotti gratis di ricerca e con il mio link che trovate qui sotto avete uno sconto esclusivo da 197 a 167 se siete interessati ad acquistarlo quindi questo è uno sconto esclusivo che mi è stato dedicato esclusivamente per i miei membri iscritti al canale e i membri della mia community quindi approfittatene, trovate il link qui sotto ma nel video che farò adesso vi farò vedere esattamente come utilizzare questo tool per ricercare prodotti che potenzialmente potrebbero essere rivenduti col servizio di Amazon FBA quindi vi farò vedere un case study specifico su come ricercare appunto un prodotto e come trovarlo anche su Aliexpress o altri siti e vedere calcolando i margini se vale la pena vendere e quanto potete guadagnare di margine su ogni singolo prodotto quindi adesso senza perdere altro tempo farò vedere tutto direttamente con lo schermo condiviso con il mio computer quindi ci vediamo lì bene andiamo avanti quindi parliamo di questa extension di Amazon tutti conoscono ovviamente Jungle Scout che è quella più conosciuta per fare ricerca e scouting di prodotti da vendere con Amazon e Amazon FBA in questo caso vi faccio vedere questa nuova app che è relativamente nuova perché non è conosciuta in Italia sono stato anche contattato dal team per collaborare insieme ne parlo semplicemente perché l'ho testata, ho visto un po' come funziona vi farò vedere quindi come funziona e soprattutto, qualcosa importante, è gratis praticamente inizialmente a differenza di Jungle Scout che invece costa subito un tot di soldi e anche l'extension è gratuita quindi sia la versione desktop che la versione Chrome extension per Chrome è assolutamente gratuita per i primi 10 ricerche poi ha un costo decisamente molto inferiore rispetto invece a Jungle Scout tra l'altro mi hanno anche riservato uno sconto esclusivo unico in Italia per voi ragazzi quindi qui sotto se siete interessati a testarlo e poi eventualmente acquistarlo c'è uno sconto esclusivo solo attraverso il mio promo code e il mio link quindi ringraziatemi dopo bene detto questo vediamo un po' come funziona è molto semplice l'utilizzo se volete fare una ricerca per prodotto qualsiasi prodotto vogliate cercare vi apparirà nella pagina questa extension adesso riferisco la pagina e vi faccio vedere se siete da Chrome vedrete questo bel tastone Amazon Scout cliccandoci sopra vi aprirà le statistiche di tutti questi prodotti questo prodotto e prodotti simili quindi clicco sopra sto utilizzando un'altra versione demo in questo caso vi dice qua in basso quanti free runs avete per trovare nuovi prodotti e se roll the dice cioè lanciate il dato vi dice anche quali sono niche idea cioè quali idee vi danno delle idee per appunto vendere dei prodotti come vedete in questo caso questo è il prodotto in questione vi fa vedere che è il numero 2 in classifica nella pagina per la tipologia di prodotto vi fa vedere quanto è classificata in tutti i prodotti Amazon e anche nelle categorie e questi vedete i risultati sono i guadagni stimati mensili proprio come fa anche Jungle Scout la differenza tra Jungle Scout e questo software che è leggermente più accurato per quanto riguarda le proiezioni mensili o almeno questo è anche il loro claim non so esattamente caso per caso perché non ho ancora così tanta esperienza per dire ok merita di più rispetto a Jungle Scout però ripeto vale la pena darci un tentativo e provarlo vedete vi dice quanto sono le spese per prodotto le FBA fees quanto si prende Amazon quanto costa il prodotto su Amazon quant'è il margine netto in questo caso perché ovviamente non c'è il costo di produzione stessa del prodotto da per scontato che è il nostro prodotto anche se in questo caso non è perché adesso vedremo che dobbiamo sapere anche quanto costa il prodotto e cosa anche bella ci dice il product score in questo caso ci dà un punteggio basato su differenti elementi sia sul costo, sul margine, sulla competizione e altre e le review anche e tutta una serie di elementi che ci fanno capire da 1 a 10 quanto vale la pena promuovere e vendere un prodotto simile cioè creare ovviamente il nostro store vendendo un prodotto a fine vedete qua vedete tutte le classifiche tutte le informazioni relative al prodotto voi potete studiarvi ovviamente tutte le classifiche i dati più importanti sono ovviamente le revenue mensile stimate sono revenue non profitto ovviamente è utile anche vedere però quanto possiamo stimare anche di profitto vedete ci sono 784 vendite stimate al mese il margine qua è calcolato solo con le spese di FBA adesso però vi farò vedere quant'è il margine totale includendo anche il costo del prodotto sotto ogni prodotto vedete poi potete anche abbassare e chiudere qua se volete vedere tutta la pagina tutto schermo con le caratteristiche del prodotto quindi vediamo un attimo in questo caso vedete 25,99 quindi 25,99 questo è il prodotto in questione potete usare sia get keywords per vedere quali keywords hanno utilizzato per rencare quindi poi di conseguenza anche voi utilizzare keywords simili per prodotti che magari potete mettere al posto di 25,99 23,99 ovviamente avrete un margine inferiore ma siccome siete nuovi potete approfittarne per poi avere review quindi altra cosa interessante potete trovare il prodotto su Alibaba quindi se ci cliccate sopra io l'ho già fatto arrivate su una pagina su Alibaba che vi fa vedere esattamente quanti sono i margine per prodotti simili io ci clicco sopra su questo in questo caso ripeto sto facendo tutto in maniera molto rapida senza analizzare troppo i seller quindi review e cose del genere però mi sto basando su account verificati con prodotto in stock fast dispatch quindi tutto assolutamente utile vedete un po' le classifiche dei prodotti qua quindi vedete se vi fate mandare dagli 1,99 pezzi pagate 15,43 a pezzo se ve ne fate mandare tra i 100 e i 1000 12,34 a pezzo quindi adesso noi copiamo questa cifra dove do la tastiera? eccomi qua copiamo questa cifra tra l'altro vedete c'è anche un coupon potete fare get coupon in questo caso vi sarà applicato un ulteriore 10% ok dopo mi loggo magari e vedete vi dice quanto pagherete tra costo per pezzo singolo che 15,34 abbiamo detto perché poi qua metteremo magari facciamo un ordine di 200 pezzi mettiamo quindi pagheremo in totale 2.468 dollari 12,34 a pezzo che noi ripeto incogliamo e cosa facciamo? torniamo in Amazon Scout anzi MAZ Scout Pro e che cosa facciamo? clicchiamo su Profit Calculator spostiamolo un attimo questo così vediamo un po' meglio tutto vedete c'è 25,99 che è il costo su Amazon qua incogliamo quant'è il costo del prodotto 12,34 abbiamo detto ovviamente ne ordiniamo sopra i 1000 pezzi scusate sopra i 100 pezzi potete aggiungere qua Additional Cost Per Unit che può essere ad esempio le spese di spedizione che in questo caso non sono menzionate però vedete un attimo che ok vedete ci calcola automaticamente tutto per farvi rivedere visto che prima era coperto rincogliamo e vi calcola tutto quindi vedete 25,99 prezzo su Amazon 12,34 pezzo del prodotto vi fa vedere quanto sono per pezzo le fee di ogni per la spedizione il servizio di Fulfill by Amazon in questo caso prende già le dimensioni standard dall'informazione del prodotto e cosa succede vi fa vedere esattamente tutto e quant'è il vostro stimato monthly profit ovviamente questa è una stima basata su questo prodotto ovviamente quindi su un totale di abbiamo detto 20.000 dollari 20.386 dollari che fa al mese questo prodotto vedete qui il monthly profit cioè quanto si mette in tasca il seller sono 6.476 dollari un ROE del 66% quindi c'è un buon un buon ritorno in questo caso profit per unit 8.26 net margin 31.78 quindi un margine del 31% classico ok questo è un test con questo prodotto ma ripeto ragazzi possiamo farlo con qualsiasi tipo di prodotto qua vi suggerisce ovviamente tutti gli altri prodotti affini il product score è rilevante quindi se ci cliccate sopra vi dà anche una panoramica completa del cosa vuol dire vedete you will have a great margin with this product quindi c'è un buon margine di guadagno per unit you will be able to get decent sales even with low review count sapete che le review contano tantissimo vi dice che siccome c'è poca competizione per una nicchia di prodotto del genere anche se avete poche review potete avere numerose vendite this listing is average quality you can try and make a better listing to compete perché ti dice il prodotto in questo caso che stiamo analizzando non è una gran figata fondamentalmente non è anche magari ottime review il 100% quindi se trovi un prodotto migliore puoi tranquillamente farli competizione there is a medium revenue opportunity quindi c'è una buona margine di revenue perché ad esempio vediamo questo il prodotto in questo caso ci clicco sopra perché ripeto in automatico va alla pagina e quindi io da qui posso vedere tutte le informazioni necessarie sul prodotto specifico molti vendono la stessa cosa se ci fate caso perché sono differenti seller che hanno preso dei prodotti simili quindi alla fine tanti si copiano i prodotti e usano anche dei prodotti affini da vendere questo però non vuol dire che non c'è possibilità di vendere ma semplicemente c'è ovviamente competizione praticamente lo stesso prodotto o pezzi dello stesso kit se ci fate caso dopo prenderò un altro prodotto e vi faccio vedere un caso più specifico vedete la stessa cosa qui il punteggio in questo caso è ripeto più alto il prezzo sempre 25,99 Amazon fee sempre le stesse le revenue in questo caso sono solo 2599 quindi anche in questo caso se facciamo il profit calculator ci infiliamo dentro come prima il costo del prodotto il costo vivo del prodotto stesso eccomi qua e qui ci viene esattamente quanto è le revenue le monthly profit in questo caso non le revenue ma il profitto su 2599 quindi c'è un margine un ROI del 66 un margine del 31 più o meno come l'altro bene andiamo a un'altra categoria di prodotto già che ci siamo non mi viene in mente niente in questo momento anche se c'è una marea di prodotti davanti facciamo le borracce visto che ho la borraccia davanti scriviamo thermos proviamo questo thermos vacuum isolated chi è il produttore by thermos quindi questo ombre è il brand stesso però vabbè mettiamo caso che vogliamo competere con questo brand thermos e metterci il nostro logo creare la nostra brand di thermos quindi apriamo carica 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 vedete piano piano si abbassano i tentativi ve lo sto facendo vedere perché così sapete con la versione free che cosa potete fare c'è un sacco di cose fondamentalmente quindi mi sembra veramente un'ottima opportunità sta analizzando tutti i risultati vedete vi sto facendo vedere average monthly sales per questa tipologia di prodotto e poi ci dai vari punteggi per farci capire no lascia stare un bagno di sangue oppure ne vale la pena quindi in questo caso ti dice che un product score ha un 5 vedete che questo prodotto fa 46.000 dollari 46.332 dollari al mese di profitto in questo caso scusate di revenue sempre non di profitto è importante mi raccomando revenue il margine è del 60% average net margin per quale motivo andiamo a vedere un po' in questo caso andiamo a vedere se troviamo il prodotto su Alibaba quindi automaticamente cliccate su quel bel link vi copia tutto e vi trova prodotti simili in questo caso vedete non ha trovato un prodotto simile perché vi da i boiler non so per quale motivo abbia messo questo proviamo vediamo a scrivere thermos noi direttamente e vediamo se troviamo qualcosa simile ovviamente più il prodotto è personalizzato più è difficile trovare un thermos vabbè proviamo a vedere con questo anche se non è non è lo stesso non è assolutamente lo stesso però vabbè proviamo a fare un altro tentativo andiamo a cercare esattamente le parole chiave che non so se sono state utilizzate già da Amazon Scout per cercarlo vediamo copiamo qui cerchiamo vediamo se c'è qualcosa di simile più o meno qualcosa del genere io direi che praticamente simile poi ci possiamo mettere il nostro logo il nostro brand e tutto bene l'abbiamo trovato adesso cosa facciamo andiamo a vedere thermos isolated 32 ounce bla 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 ok andiamo a vedere che ha un costo medio per mille pezzi minimum order quindi ne devi ordinare un botto tra i 2 e 5 e 3 70 manteniamoci larghi quindi teniamo 3 50 a pezzo e avete già capito che i margini in questo caso sono molto alti chiedono mille pezzi perché potete immaginare potete customizzarlo qui se adesso noi contattiamo il seller in questo caso dopo aver visto la descrizione possiamo chiedergli ovviamente di metterci il proprio logo vedete loro personalizzano ovviamente tutto probabilmente si possono anche plastificare mettere effetti speciali grafiche o altro quindi stessa cosa torniamo sul nostro bel amazon scout facciamo un profit calculator quindi vedete 24 95 viene venduto a noi sui mille pezzi ovviamente che è un bel investimento iniziale però vabbè ci sta anche perché 3 50 per mille non è neanche così tanto cosa succede vedete in questo caso ci fa vedere esattamente potenzialmente vendendo un prodotto simile quant'è il margine di guadagno che questi fanno ROI 410% profit per unit 14 dollari e 36 net margin 57 e 55% quindi vedete c'è un margine veramente molto alto perché qui ovviamente ci conta sempre vedete la spesa di total fba fee che costa di più perché è un termo spesa di più rispetto al kit di prima probabilmente ha un peso specifico più alto vedete qua lo potete anche vedere qui tutto direttamente loro vendono circa 1857 pezzi ripeto queste sono le statistiche di un prodotto simile che ho trovato per caso e rispetto sto cercando con voi poi possiamo fare 10.000 esempi veramente perché se ci pensate è per tutti per fare per tutti i prodotti di amazon tra l'altro questo vi ha dato anche l'idea di una bella nicchia sinceramente se avete non so una pagina instagram di fitness una pagina instagram o un blog o un canale youtube di fitness potete vendere il vostro prodotto personalizzato con amazon fba amazon fba ripeto ordinate come avete visto il quantitativo di 1000 pezzi in questo caso personalizzandolo da aliexpress che lo manda direttamente a un centro di smistamento fulfillment quindi di spedizione di amazon che si occupa di fare tutto di spedirlo di stoccarlo eccetera per quello prendono 7 dollari e 9 perché ovviamente si occupano di fare tutta questa robetta qui per pezzo ovviamente bene quindi avete visto il caso specifico in questo caso potreste avere un prodotto simile che ha queste marginalità interessanti quindi su 46.332 di revenue ha un monthly profit di 26.661 dollari se cliccate sulla parte sotto che è product idea poi amazon scout vi dà anche le idee di prodotto che potete utilizzare ok ragazzi vi ho fatto alcuni esempi pratici spero che questo video sia stato utile penso di avervi dato dei consigli interessanti e ancora più importante ragazzi qui sotto mi raccomando trovate il link usatelo bene è un prodotto è un link in esclusiva anche per il mercato italiano per questa tipologia di prodotto appunto e di servizio anzi quindi amazon scout rispetto a jungle scout non ho fatto nessuna comparazione semplicemente questo mi sembrava utile come alternativa perché costa molto di meno specialmente perché all'inizio è gratuita quindi vi potete fare un po' di test attraverso questo questa extension di chrome vedere un po' di fare una ricerca di prodotti senza neanche spendere niente attraverso il mio link avrete poi anche la possibilità di acquistare la versione premium lifetime perché ripeto rispetto al costo mensile che anche può avere un software o dei tool come jungle scout questo anche la possibilità di pagare one shot che costa anche decisamente meno rispetto ad altri competitor quindi trovate anche il link con lo sconto che è utilizzabile solo ed esclusivamente con il mio link quindi lo trovate qui sotto bene ragazzi spero di esservi stato utile come sempre lasciate un bel like condividete questo video con una persona a cui magari può essere utile questo è quanto da LA e ci vediamo al prossimo video ciao